Sono le giornate decisive per definire il nuovo assetto della Pescara. Solo dopo sarà possibile dare via al progetto tecnico. Nei primi giorni della prossima settimana il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani, incontrerà Rosettano Navarra. L'ex socio del Pontedera dovrebbe entrare in società e l'incontro della prossima settimana servirà per mettere tutto nero su bianco. Ma non è escluso che in questi giorni il presidente Sebastiani stia parlando anche con altri imprenditori o addirittura con un fondo straniero per rendere ancora più forte la società. Una volta sistemata la questione societaria ci sarà il via libera per il progetto tecnico. In caso di piano ambizioso il favorito per la panchina resta Attilio Tesser, l'allenatore attualmente sotto contratto con la Triestina ma è la prima scelta dei dirigenti biancazzurri. Resta forte anche la candidatura di Fabio Caserta, subito dietro Francesco Baldini da Perugia non sono arrivate referenze positive. Capitolo giocatori, sempre in caso di piano ambizioso al DS Daniele Dellicarri non dispiacerebbe portare in biancazzurro Ivan Marconi, difensore centrale classe 89 lo scorso anno a Palermo. è stato alle dipendenze di Tesser nella Cremonese stagione 2016-2017. In quell'annata Tesser e Marconi hanno vinto il campionato di Serie C.